Antonio parliamo e presentiamo ai nostri telespettatori questo evento di oggi perché aprire un franchising in Calabria? Questo evento è organizzato dal portale lavorareincalabria.it che è un portale che ha lo scopo di far conoscere le opportunità lavorative quindi non solo dal punto di vista di lavoro dipendente ma puntiamo anche a far conoscere anche le altre possibilità che il mercato offre quindi tra queste c'è sicuramente la formula del franchising che è spesso e poco conosciuta e che spiegheremo bene oggi durante l'evento insieme alle opportunità che il franchising offre in realtà la Calabria tra l'altro è la prima regione in Italia per ricerche su Google sulla parola franchising quindi ha un trend molto forte e che denota forti interessi su questo argomento quindi a quanto pare nonostante sia un settore poco conosciuto in Calabria invece ci sia una tendenza molto forte e quindi un forte interesse su questo argomento e quindi dato che io mi occupo ormai da 15 anni e oltre di questo settore e lo conosco molto bene conoscendo tutti gli aspetti che insomma ne fanno parte di questo settore e quindi ho voluto per questo motivo organizzare un evento più approfondito invitando una serie di persone importanti che hanno una lunga esperienza nel settore e che ci aiuteranno a comprenderlo meglio e a capire quali sono i pro e i contro a che cosa fare attenzione e quindi se è il caso o meno come valutare l'apertura di un negozio in franchising o un'attività in franchising Quanto durerà questo evento e soprattutto so che ci sono degli ospiti speciali di chi si tratta? L'evento durerà un'intera giornata quindi partiamo alle ore 10 facendo una panoramica su quella che è la situazione attuale lo faremo in compagnia del presidente Alessandro Ravecca del presidente nazionale di Federal Franchising quindi che fa capo a Confesercenti subito dopo a seguire avremo il dottor Italo Busoli che invece è il presidente di Asso Franchising dopo la pausa pranzo alle ore 15 riprendiamo le attività raccontando un po' di storie molto belle di chi ha creato questi brand in franchising inizieremo proprio dal fondatore di 101 Caffè che al momento conta più di 100 negozi in Italia poi incontreremo la yogurteria con oltre 73 punti vendita e poi a seguire ci sarà anche il direttore di franchising di Capatost e insomma racconteremo diverse storie e i nostri utenti chi ci seguirà come al solito potrà fare loro domande in diretta quindi partiamo per seguire le dirette come dicevo basta andare da lavorare in calabria.it è un'opportunità per i giovani della nostra terra della Calabria che vogliono rimanere nella nostra regione? Guardi, ritengo fortemente che sia un'opportunità questa per i giovani ma anche per i meno giovani o per chi volesse investire perché il franchising ha veramente diverse sfaccettature quindi è adatto un po' a... è molto trasversale da questo punto di vista quindi si rivolge ai giovani, si rivolge ai meno giovani ma si rivolge anche agli investitori sicuramente è un'opportunità perché sempre più spesso, ahimè le offerte di lavoro sono di meno le aziende ricercano sempre meno personale quindi bisogna cominciare a guardarsi intorno e cercare di capire come eventualmente crearsene un lavoro e sicuramente la formula del franchising proprio per la formula particolare che è sicuramente è un'opportunità molto molto interessante Grazie a tutti.